Solidarietà è una parola chiave, è una parola che riguarda la società civile quanto i governanti. Quindi questo che lui ha ripetuto ieri all'appello rientra in quello che anche oggi il corpo diplomatico ha chiarito nuovamente, ha detto e ribadito, facendo anche riferimento al Global Compact con cui la Santa Sede è aderito, facendo capire qual è la direzione di un'attenzione da parte della Santa Sede di questa problematica per una migrazione sicura sia per i rifugiati che per i migranti. Quindi non soluzioni parziali, non la violenza e lo scarto, ma una partecipazione attiva di questo problema che deve riguardare l'intera Europa per quello che riguarda noi, ma anche guardando al continente americano si ripropone sullo stesso piano la situazione. Quindi è una delle linee di fondo che percorrono l'attenzione della Santa Sede per questa problematica, che non è più un'emergenza ormai. È uno Stato, una condizione di fatto che i governanti devono prendere atto e devono trovare delle soluzioni e le soluzioni sono possibili.